rieccoci buon sabato sera a tutti voi da marcus estrazione nel 9 di luglio che si è appena conclusa era la quarta estrazione del mese allora avete visto che il 38 è arrivato a milano come vi avevo detto prima posizione azzeccata fra cui la prima posizione era proprio quella che avevo indicato nello schema arriva al 32 secondo ambetto azzeccato quindi questa previsione si può ritenere conclusa due risultati nell'arco dei cinque colpi questa lambata contata le tre ambate che andavano a finire su milano napoli avete visto che ha risposto è benissimo non c'è nessun 90 in nessuna ruota martedì probabilmente rivedremo il 90 lasso di tempo quindi 2 1 3 quindi probabilmente adesso essendo la terza assenza per il 90 in tutte le ruote dovremo vedere il 90 in settimana che viene nuova previsione allora per quanto riguarda sia youtube e sia su telegram arriva di nuovo un altro abbinamento che peccato non c'è quella ambata che poteva collegare un ambo secco o un ambo in cinguina si ferma anche quella di telegram quindi settimana prossima nuova previsione quindi qui su youtube e anche su telegram un abbraccione a tutti ragazzi vi lascio che sono fuori e ci aggiorniamo poi con gli ultimi aggiornamenti nei prossimi video un abbraccione ancora una buona serata tutti Markos